Luci rosse, preghiamo le luci rosse perché, attenzione ai fotografi, vi avverto che fotografare gli artisti del fuoco è la cosa più difficile perché hanno la luce proprio che viene dal fuoco, è difficile farlo venire bene, bisogna che venga bene il fuoco, il vero protagonista che succede? Qui arrivano i UFO nel frattempo, no? Rientrata l'emergenza A proposito di emergenza, il lucino del fuoco salvia su questa canzone, l'ha chiesta proprio esplicitamente noi questa canzone l'abbiamo scritta per Emergency, l'associazione umanitaria che si occupa di curare feriti di guerra in giro per tutto il mondo collaboriamo spesso con loro, siamo stati adesso ai fori imperiali di Roma, abbiamo fatto un weekend di delirio con artisti di strada che hanno riempito i fori imperiali, decine di migliaia di spettatori questa canzone l'abbiamo scritta per loro, questa ha sentito la proprio Emergency è un'emergenza è un'emergenza è un'emergenza è un'emergenza è un'emergenza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti